Genova 3000 prosegue nel suo viaggio fra i candidati alle prossime elezioni regionali che come sapete si svolgeranno il 27 e il 28 ottobre. Oggi come ospiti abbiamo Elena Manara che è candidata con la lista Bucci, vince Liguria. Allora Elena, tu sei consigliera comunale al nostro comune e poi una grande esperienza in Camera di Commercio, quindi è un'esperienza che tu porterai in Regione? Spero di sì, penso di sì, è stata un'esperienza di una vita perché io sono entrata alla fine degli anni 80 e me ne sono andata nel 2022, mi sono sempre occupata di turismo, di cultura, di promozione della città, di marketing, organizzazione e grandi eventi e quando dico organizzazione e grandi eventi penso ai Rolly Days, penso alle varie edizioni di Euroflora, all'esperienza di Mirabiglia, insomma veramente io sono andata via dalla Camera di Commercio proprio con un grande dispiacere e sono molto contenta e colgo l'occasione, visto che siamo qua, che lo posso dire, per ringraziare tutte le persone che mi hanno dato tante opportunità, Paolo Odone in primis che ahimè ci ha lasciato troppo presto, che è stata una persona molto importante da cui ho imparato tante cose, ma poi anche da Gigi Attanasio con cui ho avuto la fortuna di lavorare alcuni anni e poi Maurizio Caviglia veramente con cui ancora adesso faccio delle cose perché la Camera di Commercio si ricorda di me e ogni tanto mi chiede di occuparmi di qualcosa, continuo ad occuparmi delle botteghe storiche, dei Rolly, se c'è qualche evento appunto culturale particolare, poi di tanti miei colleghi con cui ho mantenuto uno splendido rapporto. Ecco, senti, adesso c'è questo passaggio da un tipo di amministrazione, chiamiamola comunale, ad un'amministrazione regionale, cosa ti ha spinto a fare questo salto? Ma, sì, intanto volevo dire che l'esperienza, questi due anni e mezzo in Comune, a cui sono stata eletta appunto in Consiglio Comunale, sono state un'esperienza fantastica che io consiglio a tutti i genovesi che ne hanno voglia, di buona volontà, purtroppo sono poche le persone che hanno voglia, dopo una certa età soprattutto, di impegnarsi. Invece è un'esperienza fantastica perché ti si aprono dei mondi nuovi, ho imparato tante cose che non sapevo, poi da qualche mese faccio anche il consigliere di città metropolitana, per cui mi incontro anche con altre realtà sul territorio e tutto questo è veramente affascinante. Devo dire che ho imparato veramente, veramente tanto. E allora mi sono detta, ci sono le elezioni, perché non provare? Intanto per dare una mano fondamentalmente a questo, a Marco Bucci che è stato un grande sindaco, con una grande persona, speriamo sia e lo sarà, speriamo, un grande presidente di regione, ma soprattutto è un grande uomo, quindi un uomo che ha una visione, proprio come la mia, di una Genova, quindi perché sia Marco Bucci, per chi ha una visione grande di Genova, di una Genova aperta, internazionale, di una Genova… Ecco, tu Bucci lo stai seguendo? Sì, un po', lo conosci bene? Ecco, parlamene un po', ecco, come sta vivendo questo momento, tu quello segui? Ma mi sembra molto serenamente, perché fa al momento, fa il suo lavoro di sindaco, perché abbiamo ancora la prossima settimana un consiglio comunale, quindi si occupa di Genova. Gira, perché lo vedete anche voi, gira tutti i giorni, è in qualche porzione di questa nostra meravigliosa regione, che appunto noi vogliamo, Marco Bucci soprattutto, e anche io che lo seguo, vogliamo che resti meravigliosa, che non si torni indietro, che resti una regione, così come lo è Genova, è una città attiva, una città in crescita, una città che punta sempre più in alto, tutto questo vorremmo farlo anche per la regione, già puntare sempre più in alto, tendere al bello, non solo per Genova, ma anche per la Liguria, sono le stesse motivazioni appunto che credo abbiano spinto Marco Bucci e che hanno spinto anche me ad accettare questa candidatura. Ecco, su Bucci si dice, i vostri, chiamiamoli avversari, dicono che Bucci sta un po' seguendo tutto quello che è stato il percorso di Totti, cioè si parla di, e vi chiediamo, e chiedono alla destra, sarà un programma di continuità o di discontinuità rispetto a quello che sono stati fatti in questi anni? Beh, in questi anni indubbiamente per la Liguria, così come per Genova, è stato fatto moltissimo, ci sono ancora tanti punti oscuri che vanno assolutamente rivisti, ecco, questo è noto a tutti, parliamo della sanità, che è un nodo dolente, ma io sono certa che Marco Bucci con la sua professionalità, col suo essere stato ed essere tuttora un grande manager, saprà anche risolvere questi problemi, però pensiamo a com'era la Liguria prima e come è diventata in questi anni di governo appunto del centro-destra, quindi noi si spera di andare a fare ancora meglio affrontando quelli che sono state le problematiche, che ahimè non sono state forse sufficientemente affrontate, oppure a correggere il modo con cui sono state affrontate, ma sempre per fare della Liguria, poi ho un po' una deformazione, io la vedo da un punto di vista turistico, da un punto di vista culturale e mi sembra che sia stato fatto molto, non solo Genova, ma tutta la Liguria è sempre piena di turisti che riempono i nostri borghi, che riempono il nostro mare, ma non solo il nostro mare, che frequentano l'entroterra, che vengono a fare trekking, che hanno riscoperto questi borghi e quando io dico dobbiamo puntare sempre più in alto, cioè fare arrivare ancora più gente, fare di questa regione, come abbiamo fatto, di questa città, dove c'è ancora naturalmente da migliorare, una regione accogliente, una regione sorridente, così appunto come sarà Marco Bucci Presidente. Ecco, ma secondo te qual è stato un po' il grosso problema che oggi la regione, perché la regione ha fatto molto, però molte cose sono rimaste, ecco qual è secondo te il punto forte su cui potrà puntare la destra se dovesse andare al governo, i problemi, i nodi ancora da risolvere. Come ho detto prima, sicuramente il nodo della sanità, bisognerà continuare, ed è questo che appunto ci si impegna per questo, anche continuare sul discorso delle infrastrutture, perché noi abbiamo una città meravigliosa, una regione con un potenziale incredibile, però bisogna cercare di far raggiungere dalle persone che la vengono a vedere, a frequentare in modo snello, in modo veloce, le varie località, ecco anche collegamenti con l'aeroporto, insomma l'aeroporto che possa avere più collegamenti, insomma sono ancora tanti, sono ancora tanti i problemi da migliorare, però io credo che appunto un manager come Marco Bucci lo possa fare. Senti, tu sei una donna di cultura, perché hai fatto molto, ti sei occupata di momenti culturali, ecco questo è un tema importante, il tuo contributo dovessi andare, il Nicolo potrebbe essere molto legato alla cultura, perché su questa cultura i discorsi tu lo sai sono molti, chi accusano, è mancato un assessore alla cultura. Un assessore alla cultura comunque, io dico sempre, noi lo abbiamo, perché è Marco Bucci, che è una figura polivalente, con un programma gli avversari ci accusano sempre di non avere una visione, un programma, invece c'è una visione, una visione che vuol far crescere Genova da un punto di vista culturale, in cui sono stati anche potenziati certi eventi, ci sono degli eventi che ormai sono una consuetudine, mi riferisco ai Rolly Days, quindi alla valorizzazione in generale dei palazzi dei Rolli, ma è stato fatto tanto per le botteghe storiche, per l'albo delle botteghe storiche, di cui mi onoro di essere una dei fondatori come Camera di Commercio, è stato fatto tanto per la valorizzazione dei palazzi, che sempre più spesso comunque sono aperti, si fanno tante manifestazioni, quest'estate a giugno biennale abbiamo organizzato per la prima volta su scala grande, grandiosa, meravigliosa, come piace dire a noi, un Paganini Genova Festival con tre concerti al Teatro Carlo Felice, che hanno avuto un grandissimo successo e che rifaremo tra due anni. È biennale questo festival, così come è biennale, è il premio Paganini, che è un altro evento su cui noi continuiamo a puntare. Ecco, volevo dire, in questi programmi che ho visto un po' di tutti i vari partiti e liste, non ci sono molti programmi o proposti sul mondo delle donne, ti risulta questo? No. No. Secondo me, io ho un concenso. Cioè, delle donne, delle mamme, donna, mamma, cioè problemi della famiglia, ecco. Non ti risulta? Ma secondo me ci sono, poi magari sono un po' nascosti nelle pieghe di questi programmi, però credo che anche per le donne, ma ormai io sono un po' stanca quasi di sentir parlare di quaterosa, di madri, di uomini, di padri, eccetera. Ci sono uomini e donne che si impegnano, ci sono uomini e donne che si impegnano meno, ci sono, però voglio dire, ormai ci sono tante strutture naturalmente da migliorare per consentire alle madri di poter lavorare, ci sono asili, ecco, forse bisognerà lavorare anche su questo, sia a livello comunale che a livello regionale, potenziare queste strutture che possano consentire, però alle donne di lavorare, di avere una famiglia, di avere dei figli, però mi sembra che grosso modo siano già impostati. Poi cosa vuol dire avere dei programmi per le donne? No, vuol dire valorizzare la donna. Ma valorizzare la donna? Siamo nella nostra lista, siamo in tante donne candidate, quindi vuol dire che ci hanno valorizzato. Per la tua lunga esperienza di donna, è difficile per una donna fermarsi oggi? Secondo me no, se una è brava si afferma. Ci vogliono le capacità come ci vogliono per un uomo, non è più come una volta, adesso abbiamo tante donne chirurgo, parlavo proprio di recente con una persona che mi dice guarda, è stata operata da una donna, le farà una donna la seconda operazione, quindi ormai secondo me se le donne hanno le capacità… Il patriarcato è finito? Secondo me sì. Senti, che campagna fai? Che bella domanda, sono contenta. La mia campagna è una campagna non urlata, non sgomitata, è una campagna molto all'antica, una campagna fatta di telefonate, di incontri con poche persone, non adunate oceaniche, di una rubrica di cui vado molto fiera, su cui segno tutte le persone con cui ho parlato e a fianco metto una previsione di voti che potrei ricevere da queste. Distribuisco un po' di santini come tutti perché bisogna farlo, il santino è santino, non c'è campagna senza santino, però cerco di darlo alle persone che conosco, alle quali dico dai dammi il voto, mi conosci da 40 anni, da 50 anni ormai a me, le persone mi conoscono da tanti anni e quindi una campagna molto porta a porta all'antica, qualcuno mi dice una campagna all'antica, poi è chiaro, faccio i post su Facebook dove sbaglio regolarmente a scrivere, ieri ne ho fatto uno, invece che scrivere Fontana Buona ho scritto D'Ontana Buona, ma hanno capito tutti. Faccio un'ultima domanda, secondo te come sarà la Liguria fra cinque anni? Sarà meravigliosa, sarà meravigliosa come lo è adesso, lo sarà ancora di più, sarà una Liguria dove si potrà vivere bene, lavorare bene, fare delle belle vacanze, cioè veramente una Liguria meravigliosa a 360 gradi. Allora cosa ci dice, buona fortuna? Buona fortuna, grazie, ci risentiamo, grazie, grazie a voi per essere venuti, grazie, grazie, Elena Manara.